coach carolillo dicevamo otto vittorie su otto in previsione comunque della prossima sfida che virtus vedremo che andrà a salerno sapendo di incontrare la seconda in classifica un'ottima squadra ben allenata e quindi sarà sicuramente una partita dura andiamo di sapendo di dover affrontare un'altra battaglia e quindi dobbiamo farci trovare pronti a tutte le situazioni che salerno ci proporrà quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda come le interpretate in vista proprio della prossima partita questo tipo di classifica ma guarda onestamente per le abitudini nella classifica in questo periodo dopo otto partite mi interessa relativamente poco fa piacere essere in testa però sappiamo benissimo che un campionato dove mancano ancora tante partite domenica scorsa sia pure con avellino che una signora squadra ha fatto una grande partita e questo diva riconosciuto non hanno mollato di una virgola anche dopo il primo quarto che avevano realizzato dove avevano realizzato solo sei punti quindi sappiamo benissimo che tutte queste squadre vanno affrontate con la giusta concentrazione ma senza pensare alla classifica il fatto di aver vinto otto partite o tutte le partite dall'inizio dell'anno ci fa piacere ma non possiamo certamente starci a pensare è una cosa che ci cambia poco in questo momento del campionato in questo momento del campionato noi sappiamo che abbiamo ancora dei margini di miglioramento quello che ho detto oggi ragazzi giochiamo ancora troppo a sprazzi giochiamo a volte muovendo poco la palla da un lato all'altro risolvendo le situazioni molto a volte con le individualità è quello su cui dobbiamo lavorare per crescere per giocare di più insieme per difendere soprattutto meglio insieme tenendogli uno contro uno ma ti ripeto una squadra che ancora dei margini di crescita quindi lavoriamo per arrivare al cento per cento di quello che questa squadra può dare